Benvenuti da Narosensei puntatona dedicata agli antivirus migliori su sistemi operativi portatili quindi android eccetera eccetera e ho già fatto un video del genere in cui ho spiegato che bene o male un po' tutti quanti i classici antivirus che trovate tra le prime dieci posizioni del Blistore vanno benissimo tipo Avast, AVG, Casper, Sky eccetera eccetera ce ne sono una tonnellata di antivirus veramente tantissimi la cosa bella è che anche quelli a pagamento comunque fanno bene o male le solite cose ovvero controllano le app che sono scaricate possono verificare qualche virus che non esiste per android sulla scheda SD magari a pagamento però bene o male quelle sono non fa niente altro i filtri, qualsiasi altra roba non c'è niente sono dei programmi che ciucciano corrente ciucciano batteria senza nessun motivo senza nessuna spiegazione logica che non servono a niente perché? perché l'antivirus per i cellulari delle app non mi interessa niente ovviamente come ho già detto le app se le scaricate da il Play Store e basta sono app sicure che non contengono nessun tipo di malware perché sono già verificate perciò a cosa mi serve un antivirus del genere? sostanzialmente a niente ecco perché vi ho trovato fuori un antivirus totalmente diverso dai soliti che non solo è gratis ma fa anche quello che serve su un cellulare si chiama sofo, sopo, sofo, sofo, sopo, come cavolo volete intercept x4mobile forse ho già parlato anche di questa casa produttrice per Windows fa antivirus molto 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 validi anche se a me non piacciono neanche un po' perché come tasso di rilevazione sono molto bravi sono molto alti ma è un po' macchinoso perché è tutto collegato in cloud se avete tre computer insieme li potete controllare a distanza e potete attivare e disattivare fare cose ma le impostazioni su ogni pc non esiste è da fare tutto quanto tramite browser una cosa che mi dà parecchio fastidio e può essere utile per alcuni ma a me non piace comunque detto questo per cellulari fa veramente una bellissima app penso è la migliore in assoluto tra tutte quelle che ho provato e cosa fa rispetto agli altri innanzitutto vi può fare vi può vi può fare la scansione non solo dell'SD delle app scansioni magari personalizzate a 8 ora a 8 giorno eccetera ma in più lui apre la protezione rullo di tamburi per i browser questa è una cosa che non fa un cacchio di nessuno solo lui ho visto che apre la protezione se apro qualsiasi browser se apro firefox se apro opera se apro brave qualsiasi ok io apro un browser e lui mi fa partire il filtro di protezione e infatti fa protezione anti malware filtraggio web quindi blocca il contenuto delle pagine malevoli indesiderati illegali verifica i link vi protegge le app non mi interessa protezione del wifi non mi interessa protezione della privacy vi dice se ci sono dati personali rubati consiglio di ottimizzazione del dispositivo non serve a niente scansione dei QR code va sempre bene magari se non avete un'app dedicata può fare anche lui memorizzazione di tutti gli account delle password eccetera autenticatore di password insomma avete un sacco di robe tra cui possibilità di connetere l'app all'account microsoft eccetera eccetera l'utilizzo dei dati e della batteria è minimo effettivamente io non vedo assolutamente la differenza l'ho installato da circa un mese un mese e mezzo quasi due e la ricarica è sempre la stessa quindi non serve neanche andare a fasciarsi tanto la testa una volta impostato e dato tutti quanti i permessi il gioco è fatto quindi lui si aggiorna lui fa i suoi controlli se lasciate fermo il cellulare per non so mezz'ora un'ora così un 90% delle volte troverete la vostra riaccensione che ha eseguito una scansione sotto proprio in maniera tranquillamente del cellulare in stand by per verificare i file e le zone più critiche ok quindi va bene va benissimo si può attivare o disattivare tutti i vari filtri da da quello web al checker dei link se sono malevoli alla protezione del wifi la versione gratuita base è più che sufficiente è super ottima non ha bisogno di niente è praticamente full poi se volete se andate in cerca ci sono una miliardata e mezzo di software similari come vedete oltre all'intercept ci sono autenticator antivirus ci sono tutti separati ok tutti i filtri tutti quanti servizi separati potete attivarli più o meno ce n'è qualcuno a pagamento però di base sono tutti quanti gratis quello con la x questo qua è quello che io vi consiglio perché è il pacchettino che vi da tutto quello che serve senza appesantire niente ok bene voglio assolutamente i commenti sotto le vostre impressioni se vi siete divertiti non penso però se è stato utile iscrivetevi al canale guardate gli altri miei video e alla prossima puntata bye bye